9. Fiori sull'uscio dei vicini Tutta la famiglia esce di notte in fila indiana, il padre, la madre e la figlia, sulla strada tesa e uguale della loro alienazione. Depongono fiori sull'uscio dei vicini e dopo il pacifico maggio si allontanano salmodiando, portati via dal buio. 10. Camminano per ore e in quella solitudine forse la famiglia si sente proprietaria delle stelle. Ma da quando l'alienazione è diventata troppo grave, la famiglia l'hanno rinchiusa in una casa di cura stretta stretta. Commento Ciò che decide la nascita in una famiglia anziché in un'altra è l'affinità dei codici del nascituro con i codici di quel gruppo familiare. Ed ecco la creazione del karma familiare, cioè delle esperienze che quella famiglia ha bisogno di vivere collettivamente. Ciò che diventa è la prima, la famiglia di vivere collo con i codici dei codici del ampio. Grazie a tutti.